Ciao sono Emiliano Galli dell'Agenzia Immobiliaria Remaxi d'Alcase, oggi sono in zona Pigneto e ti presento l'appartamento, anzi il loft Los Angeles. Siamo in viascoli 1999, una palazzina che è stata completamente ristrutturata e riqualificata dove sono stati creati sei appartamenti che abbiamo già venduto e questi sono gli ultimi due immobili loft caratterizzati appunto da questo stile un po' americano tant'è che l'abbiamo chiamati uno New York e l'altro Los Angeles. Vi faccio vedere subito dall'ingresso perché un ingresso è molto ampio e qui sulla destra c'è questa risica dove è possibile fare un'armagliatura, un ripostiglio e quant'altro. Primo bagno dove ci sono sanitari, box doccia comodo e poi lavandino e spazio per lavatrice asciugatrice. Quello che a me ha colpito quando siamo entrati senza dubbio è il fatto di, pur essendo un piano terra di 60 metri calpe stabili, più 60 di terrasso sopra dove dopo saliamo, è tutta questa vetrata al centro che fa entrare tantissima luce perché espone al sud ovest. Questo primo ambiente che sono circa 23-24 metri quadri sono predisposti lì per l'angolo cottura e quindi ovviamente zona pranzo e angolo cottura e quest'altra parte per soggiorno e zona living. Dopo usciremo su questa piccola corte e come vi anticipate ecco la scala ci porterà sopra nella terrazza e il disimpegno verso questa parte notte, questa zona notte dove sulla sinistra c'è lo spazio per l'armadio, spazio per letto sulla destra dove avete delle bajure, predisposizione condizionatori e tv come quant'altro. Eccolo qui. E poi il secondo bagno finestrato, quindi lavabo, sanitari, box doccia, finestra. Adesso andiamo nella parte forte perché gli appartamenti, diciamo che già di per sé questo appartamento così disposto in stile loft non è facile trovarlo, anzi penso sia uno degli unici due appartamenti, questo e quello accanto presenti al pigneto con queste caratteristiche e soprattutto adesso stiamo salendo sopra con questa scala in ferro che comunque è comoda. Sono 60 metri quadri di terrazza, in parte pavimentato che è questo qui, qui sono tutti i frangi vetri, eccolo qui, camminatoio in vetro che anche questo dà luce sotto a quel disimpegno che abbiamo visto tra la camera e il soggiorno e prato sintetico. Eccoci qua. È una proprietà senza dubbio esclusiva, io ti invito a venirla a visitare perché se stai cercando un immobile in zona pigneto, nuovo, mai abitato, ristrutturato e con 60 metri quadri di esterno potrebbe essere veramente la casa che fa al caso tuo. Per vendere casa puoi fare tu le foto, mettendoci tutto te stesso. Ma con un agente Remax? Eccoci, come va? Hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.